a grande richiesta ritornano sul canale le avventure della vampira più amata dei soffittari la sexissima Iacola personaggio creato nel 1969 da Renzo Barbieri e Giorgio Cavedon è disegnata da Giorgio Cambiotti per tutte le info su Iacola vi rimando alla scheda del personaggio che trovate qui in soffitta in descrizione vi lascio anche la playlist con tutte le sue avventure ma ora vi lascio alle avventure di Iacola buona visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti